Buongiorno a tutti, oggi vi presento in affitto un appartamento sito nella zona del Policlinico, più precisamente via Flare. Via Flare è attaccata a via Legolgi e via Lombroso e anche via Selli. Perfetto, adesso cominciamo a dare un'occhiata all'esterno della palazzina. La palazzina è recente, è stata costruita nel 2005, quindi anche tutto l'interno dell'appartamento è nuovo. Lì vediamo il videocitofono, la porta blindata. Quei due divani sono due divani letto, ma non sono due divani letto dove praticamente deve stare dieci minuti per aprirli. No, tiri fuori e il letto è già bello che è fatto. Poi qua vediamo un primo armadio, la scrivania, dove poter anche tenere la televisione. Poi c'è questa sorta di separazione con questo mezzo muretto e qua accediamo subito alla cucina, che è una cucina grande, anche lei nuova. Ricordo che il riscaldamento è autonomo e poi vediamo un attimino i fornelli, quella lì è la caldaia con il riscaldamento autonomo. Cosa molto utile qua a Pavia, cioè non a Pavia, ma in Apparatamento, che c'è l'aria condizionata, che è molto utile da sfruttare d'estate. Zanzariere di Fissa, poi c'è questo bel balconcino, un balconcino che non dà direttamente su strada, ma dà a faccia verso l'altra palazzina gemella. Lì in fondo dove ci sono quegli alberi è la strada principale. Perfetto, adesso dopo aver visto il balcone andiamo nella zona dove c'è il bagno, la cabina armadio. Qua una sorta di lavanderia dove il proprietario ha inserito la lavatrice. Questa qua è la cabina armadio per la felicità delle donne. Ed infine il bagno, un bagno discreto, comunque c'è tutto ed è tutto tenuto in ottime condizioni, un bel bagno con la doccia. Perfetto, se non ti interessa questa soluzione ho altre soluzioni nella zona della stazione. Potete cliccare su una delle quattro icone. Buona giornata. Buona giornata.